GF VIP 7, Nicole Murgia, io sul trono uomini e donne? Non ci avevo mai pensato ma. Class uguale P1 Nicole Murgia è stata una delle protagoniste di questa edizione del GF VIP 7. Class uguale P1 intervistata dal settimanale Chi, in edicola oggi, la vippona ha parlato dell'esperienza nella casa e di alcuni suoi compagni d'avventura. Class uguale P1 Nicole ha rivelato quale concorrente la delusa. Class uguale P1 una ragazza ha poi parlato del rapporto con Edoardo Donnamaria. Class uguale P1 in merito ad Antonino Spinalvesi invece ha detto. Class uguale P1 e su Daniele Dal Moro ha ammesso. Class uguale P1 Nicole ha poi ammesso di tiffare per Luca Onestini e Ivana Mrazova, e a proposito di Nikita Pelizzona ha detto. Class uguale P1 non poteva poi mancare una domanda su Vittoria De Ganello, ex fidanzata del fratello di Nicole. La Murgia, secondo la ragazza, le avrebbe consigliato di abortire. Class uguale P1 infine, su una possibile partecipazione a uomini e donne, l'ex GFIN ha detto. Pass uguale P2 alpaturello. Class uguale P3 a. Pass uguale P2. Pass uguale P2. Pass uguale P3 a. Pass uguale P2. Pass uguale P3. Grazie a tutti.